Io sono Giancarlo Mozzarelli e sono l'assessore dell'attività produttiva della Green Economy della Regione Emilia Romagna. Di fronte a un'economia e a una società in grande tensione abbiamo bisogno di avere idee innovative e cercare di costruire futuro per lasciare futuro. L'obiettivo del confronto è un obiettivo culturale ma è anche un obiettivo politico per cercare di assumere nuove coordinate, per miscelarle al meglio e cercare di costruire le condizioni perché l'energia sia sempre più una grande opportunità. Allora io penso che la nostra Regione che ha scelto la Green Economy come uno degli elementi portanti verso la sostenibilità deve continuare a dare un segnale chiaro, la crescita sostenibile, intelligente e inclusiva e all'interno di questo inserire la cultura della nuova energia, quella delle comunità, a partire proprio dal territorio per sviluppare le azioni insieme alle amministrazioni locali. Noi come Regione abbiamo deciso di dare un contributo al patto dei sindaci perché vogliamo che il territorio si metta in gioco e dal territorio si costruiscono nuove politiche per il risparmio energetico, per cercare di avere produzioni da fonte rinnovabili, per ricostruire le città più armoniche, vivibili per le nuove comunità che stiamo costruendo. Quindi è un processo politico molto importante che la Regione Emilia Romagna vuole portare avanti, c'è bisogno di confronto, c'è bisogno di una grande azione perché la comunità deve assumere questo messaggio, il cambiamento, il cambiamento verso una sostenibilità migliore per vivere tutti in modo più armonico e soprattutto per avere nuove opportunità di lavoro perché la Green Economy nella nostra Regione significa proprio questo, tenere insieme le opportunità per il lavoro. Noi da un'indagine che abbiamo fatto abbiamo verificato che oltre 2.000 imprese e 240.000 posti di lavoro sono nati o si sono trasformati in questi anni proprio perché hanno in qualche modo avuto la forza di virare e noi dobbiamo continuare a virare verso la direzione del futuro, verso la direzione della sostenibilità. Ecco io credo che culturalmente noi dobbiamo fare questo e soprattutto trasformare in azioni operative e su questo credo che la Regione sia in campo totalmente, non solo perché ha deciso che dal 2014 si costruisce in classe A, non solo perché ha contribuito a dare una mano ai sindaci con oltre 8 milioni di euro per gli investimenti, per il risparmio e la produzione di energia, ma anche e soprattutto per l'urbanistica e per la premialità necessaria che dobbiamo mettere in campo perché chi con noi sta a questa sfida per virare verso il futuro deve trovare le condizioni di premialità per giocare fino in fondo questa grande partita. Io credo che ognuno di noi nel proprio agire quotidiano, nella politica come nella società deve capire che dobbiamo tutti insieme virare per lasciare futuro e costruire un futuro migliore rispetto a quello che abbiamo oggi e questo futuro è lavoro, opportunità e sostenibilità e su questo dobbiamo lavorare ogni giorno tutti insieme davvero uniti.